Abbiamo portato in piazza le nostre idee per il centro storico di Portoferraio. Questo è il commento di Cosetta Pellegrini, candidata a sindaco di Portoferraio per il centro-sinistra. All'indomani dell'incontro organizzato lunedì 12 maggio nel centro storico della città, presso il Bar Certosa, di fronte ad un folto ed attento pubblico. Ma veramente è stato entusiasmante. Io ho raccontato loro quelle erano le mie idee, mi sembra anche che le abbiano condivise, qualche critica giusta, però che aiuta a crescere e a migliorare le idee che abbiamo messo in campo. Sono molto soddisfatta. Molti gli argomenti toccati nella riunione, dalle proposte dello spazio verde da ricavare al posto del parcheggio di piazza della Repubblica e della piazza al coperto da ricreare all'interno del mercato delle galeazze, al problema più sentito dai cittadini residenti, almeno a giudicare dagli interventi, quello del traffico. C'è chi pensa che ancora le macchine possono essere un volano di economia ma alla maggioranza mi sembra di capire che ritiene che dobbiamo liberare questo centro storico intasato dalle macchine e credo che su questo potremo lavorare insieme con i cittadini del centro storico.